Bisogna riprendere il concetto di giacimenti culturali rispetto al nostro patrimonio storico e architettonico. I beni culturali rappresentano una delle grandi occasioni per rimettere in moto l'economia casertana, anche stringendo un saldo rapporto col turismo. Il patrimonio monumentale e paesaggistico della nostra provincia rappresenta la vera ricchezza da utilizzare. Molti dei nostri monumenti sono praticamente invisibili o perché lo sono di fatto o perché non adeguatamente fruibili. Per il turismo della nostra regione, in particolare della provincia di Caserta, c'è bisogno di un vero e proprio piano shock che tenga in considerazione i nuovi modelli di domanda turistica.